Quando la sanità rasenta l'incredibile, aspettare per la diagnostica è un addazzo terribilmente ricorrente ma a volte si esagera. Al Delellis è successo ancora. Dopo aver richiesto una colonoscopia per accertamenti all'ospedale di Dieti, un paziente ha ricevuto un appuntamento per dicembre 2017, praticamente dopo oltre un anno di attesa. La prevenzione e la salute sono di nuovo costrette a fare conti con dei tempi di attesa lunghissimi inaccettabili e così facendo il fantasma della mana sanità rischia di diventare sempre più invincibile perché poi il povero Cristo non si cura a tempo debito oppure è costretto a rivolgersi alla diagnostica degli studi privati. Sarà un caso che stanno nascendo come funghi centri sanitari, fisioterapici e quant'altro?